Hauser festeggia il trentennale della sua fondazione a Reggio Emilia, i 23 anni dalla nascita della sede di Rio Saliceto, con un'iniziativa basata su cultura, socializzazione e solidarietà. L'evento si è aperto con una tappa della rassegna Hauser più vita agli anni, che ha offerto un tour guidato del paese di Rio Saliceto attraverso luoghi di importanza storica come il municipio, la cittàia comunale e il centro Wildmer Biagini, che oggi ospita anche gli uffici Hauser. Il pomeriggio ha dunque lasciato spazio alla commedia dialettale Personaggi rosa per una storia gialla di e con Antonio Guidetti e volontari attori Hauser, al termine della quale è stata offerta una pericena. L'iniziativa ha avuto come scopo anche quello di sostenere la sede Hauser di Rio Saliceto nell'acquisto di due nuovi automezzi a beneficio dell'accompagnamento sociale rivolto a persone fragili. Oggi riprendiamo questa attività per noi molto importante e culturale di più vita agli anni che abbiamo dovuto sospendere durante la pandemia. Quindi oggi abbiamo visitato il paese, abbiamo visitato la città e abbiamo visitato il comune che è molto interessante eccetera e poi abbiamo la commedia dialettale. Rio Saliceto è un centro molto attivo, molto creativo. Adesso fanno anche il senior caffè, si trovano tutte le settimane con tantissime lezioni, modo di stare. Hanno ripreso a stare insieme e ce n'è tanto bisogno. Quindi è un centro importante, non potevamo non esserci. Si riprende anche un'attività culturale e sociale. Hauser è una fonte fondamentale per il Rio Saliceto e se non ci fosse Hauser veramente non sapremo come fare tanti servizi. Sono 23 anni che questi volontari sono tutti veramente incommiabili e aiutano il paese, aiutano gli anziani, aiutano il comune in generale anche a svolgere determinate mansioni per le quali noi veramente faremmo fatica. Il rapporto è molto buono e Hauser piano piano si è ricavato uno spazio sempre più importante perché è sempre più presente e con varie attività che non è soltanto quella del trasporto diciamo così delle persone fragili, dei disabili, degli anziani, ma anche altre attività sociali che sono molto apprezzate come ad esempio quella di oggi. È una cosa molto importante perché in un comune specialmente delle nostre dimensioni il valore della comunità, la socialità, la coesione, l'integrazione sono fondamentali per il nostro sviluppo, il nostro benessere. Questa è la nostra sede, è da un anno che siamo qui, che il comune ci ha concesso questa sede e per noi è proprio, insomma, siamo contentissimi e qui facciamo un po' tutta l'attività dell'Hauser di Rio. In questa sede c'è anche la ludoteca, la biblioteca e con la biblioteca collaboriamo moltissimo. Presentiamo libri soprattutto di scrittori locali. Una cosa importante è il segno caffè che da qualche anno lo facciamo insieme allo SPI, allo SPI-TGL, coordinamento donne. È un intrattenimento del giovedì pomeriggio, lo chiamiamo noi. Qual è la gratificazione per un volontario realizzare giornate come queste, ma più in generale nel quotidiano, fare attività per la comunità? Impiegare bene il proprio tempo e sentirsi utili e stare soprattutto in mezzo alla gente, socializzare, stare in mezzo alla gente è la cosa più bella e anche con un solo grazie sentirsi gratificati. Basta un grazie, un sorriso e il volontario è già contento. Il volontario è così.